Con la scontata adesione del Partito Democratico alla coalizione centrista guidata da Tommaso Minervini, a Molfetta si stanno delineando con chiarezza quelle che sono le forze in campo in vista delle elezioni comunali dell'11 giugno. Minervini appare ai nastri di partenza l'avversario da battere, ma anche il centrodestra con la candidatura dell'avvocato Isa De Bari appare agguerrito e determinato a riguadagnare il consenso perduto a causa dello spostamento di esponenti di primo piano della sua area, come Tammacco e Camporeale, lo scorso anno su Emiliano e in questa competizione proprio su Tommaso Minervini. C'è ancora confusione a sinistra nel Movimento 5 Stelle. Gianni Porta, stanco dell'eterna palude, delle estenuanti discussioni e degli infiniti distinguo, Rotti gli Indugi ha ufficializzato la sua candidatura, sostenuta da Rifondazione Comunista e dalla lista civica Compagni di Strada. Potrebbe sostenerlo anche sinistra italiana ancora in una pausa di riflessione che ci auguriamo si concluda prima dell'11 giugno. Gano Cataldo e la parte che a lui fa riferimento sarebbe più propenso a sostenere Porta, mentre l'ex sindaco Paola Natalicchio non escluderebbe una convergenza su Bepi Maralfa in corsa come candidato sindaco con la lista civica a linea dritta. Su Gianni Porta potrebbe convergere anche Cuore Democratico, una lista nella quale dovrebbero confluire Democrazia e partecipazione, il movimento fondato dal compianto Guglielmo Minervini e i fuoriusciti dal Partito Democratico, a cominciare dall'ex segretario Antonio Di Gioia, che non hanno condiviso la scelta di sostenere Tommaso Minervini. Se con un pizzico di buonsenso da parte di tutti, ed è lo stesso candidato sindaco Gianni Porta, sia sinistra italiana che Cuore Democratico dovessero decidere di sostenerlo, ci sarebbe anche a sinistra una coalizione competitiva. Diversamente ci sarà il consueto frazionamento dell'atomo, utile solo all'elezione di qualche consigliere di inutile testimonianza. In campo anche Leonardo Siragusa, consigliere uscente, è eletto con la Natalicchio nella lista di Centro Democratico e che ora ha deciso di mettersi in proprio. Resta il rebus del Movimento 5 Stelle. Come è noto, le loro candidature, le loro liste, devono avere il nulla osta dei vertici nazionali che vanno piuttosto a rilento, tant'è che anche a San Ferdinando e Canosa, giusto per fare degli esempi, si è nelle stesse condizioni. La situazione di Molfetta appare però piuttosto delicata. Il Movimento appare diviso e sembra siano state presentate per la certificazione ben tre liste, con il risultato che potrebbero essere rigettate tutte. Sarebbe una grave assenza in una città delle dimensioni e dell'importanza di Molfetta. Il buonsenso dovrebbe consigliare una sintesi, ma da ciò che si sente buonsenso per i 5 Stelle Molfettisi appare una parola veramente grossa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti